Oh Gabriele, senti si sta facendo un po' tanti eh? Ho capito, li ho chiamati, uno si chiama Enrico e uno si chiama Alessandro e mi hanno detto che dovevano venire in orario quindi non lo so E basta che ci diamo la mossa qua perchè dobbiamo scendere per forza qualcuno Penso che sarebbero per arrivare quindi Ma sarebbe altro Aspetta, mi sai che sono arrivati, vado a vedere se... Ok, ok, va, va Sono arrivati, quindi vai Ah, bravo, bravo Avanti il primo Salve Ciao Come ti chiami? Mi chiamo Enrico E quanti anni hai? E da dove vieni? Vengo da Mesagno e ho 23 anni 23 anni Tu pensa ai 23 anni? Ma io non so a Mesagno e non sta... e questo è il problema E dove vieni? E tu? E' un paesino in provincia di Brindisi E qui E' un paesino in provincia di Brindisi E questo è un paesino Ma è stato attacca questo? Non capito io Vabbè, non lasciamo stare E ancora non abbiamo capito E' fortunato Da dove vieni e cosa sai fare Spiegaci un po' Non lo so Io c'è un po' di idee insomma So usare la telecamera E so fare anche i montaggi video Non lo so Mi piace proprio questo Facciamo Io Passiamo All'altro E per il momento basta così Le faremo sapere Il prossimo Benizi Vabbè Molte dei termini eh Eh, presentati Ma come chi sono? Sono Alessandro Leotti In arti J-Hucks La canzone senza pagare Colpio Amedeo A foggia J-Hucks Prima intendenza Assunto